Ciao, sono Susi Morris. Diamo un'occhiata ai tre principali bianchi della gamma Mussini. Abbiamo il bianco zinco, il bianco titanio opaco e il bianco traslucido. Il bianco è al centro della tavolozza di colori di qualsiasi artista. Molto spesso fino a tre quarti della vernice utilizzata per un dipinto è bianca. È il colore che tiene insieme il dipinto. Per questo motivo gli artisti che preferiscono spendere di più per gli altri colori e risparmiare acquistando un bianco più economico stanno in realtà riducendo la qualità dell'intero dipinto. Iniziamo dando un'occhiata al bianco zinco. Il bianco zinco è spesso definito soft, in quanto è semitrasparente se paragonato al bianco titanio. Si tratta di un bianco molto puro, efficace per schiarire leggermente i colori senza l'alta intensità del bianco titanio. Per questo motivo è l'ideale per miscelare i toni della pelle, come questo tono di pelle caucasica, in quanto è molto più tenue. Diamo adesso un'occhiata al bianco titanio opaco Mussini. Il bianco titanio opaco Mussini è un bianco brillante altamente opaco, grazie alla presenza di carbonato di calcio e biossido di titanio, che amplificano le sue qualità coloranti. Il bianco titanio riflette quasi il 97,5% di luce, pertanto non ne occorre molto per smorzare i pigmenti. È l'ideale per ottenere tonalità opache dai colori pastello. Il bianco titanio opaco è molto efficace anche quando viene diluito, dando vita a un effetto simile alla nebbia. È un ottimo smalto per gli effetti atmosferici. Il prossimo bianco che voglio mostrarvi è il bianco traslucido Mussini. Il bianco traslucido Mussini è un bianco titanio con una grana molto fine. Essendo semitrasparente, le sue proprietà di illuminazione sono molto ridotte. L'impatto che ha su pigmento è molto sottile. È un pigmento che tende a utilizzare molto frequentemente. Mi piace molto la sua traslucidità e la grana ultrasottile, ottima per ricreare vellature atmosferiche ed effetti fumosi, come ho fatto qui, utilizzando un pennello da Vinci. Queste tre tonalità sono prodotte con combinazioni di olio di semi di girasole e olio di cartamo, due oli vegetali naturali, molto più chiari e meno ingiallenti rispetto all'olio di lino, utilizzato nelle tonalità diverse dal bianco. Di conseguenza le tonalità bianche richiedono un tempo di asciugatura più lungo, cosa che può essere utile se si lavora bagnati sul bagnato. Schmincke propone inoltre alcuni bianchi molto utili, tra i quali il nuovo sottosmalto bianco. Il sottosmalto bianco è davvero ottimo per gli strati inferiori di un dipinto a olio. È un bianco caldo semiopaco che si asciuga molto rapidamente. Un'ottima base sulla quale dipingere e se volete modificarne il colore potete farlo utilizzando altri colori ad olio. in questo caso sto usando il giallo brillante di Mussini. La parte essenziale del suo elegante è uno speciale olio di lino purificato a rapida asciugatura. Questa proprietà lo rende un bianco perfettamente adatto come base del dipinto, in quanto riduce gli effetti scoppiettanti nelle tonalità colorate applicate sullo strato bianco. Deve essere utilizzato solo su appositi fondi adatti alla pittura ad olio. È bene sottolineare che non andrebbe utilizzato per le miscele, non essendo stato ideato per questo. Può mostrare una leggera tendenza al giallo a causa dell'olio di semi di lino, a differenza degli altri bianchi menzionati prima, come il bianco zinco, il bianco titanio opaco o il bianco traslucido. Una buona notizia per i pittori che dipingono ad olio è che Schmink ha progettato una nuova versione senza piombo del classico bianco kremlins. Viene chiamato bianco d'argento. Questa combinazione di pigmenti in titanio e bianco zinco in un olio di cartamo molto puro danno vita a una tonalità tiepida e semi opaca accelerando il tempo di asciugatura e stabilizzando la superficie. Miscelando i colori ad olio con il bianco d'argento si ottiene una consistenza molto liscia e burrosa. Possiede una sfumatura più delicata e pertanto meno potente e meno opaco rispetto al bianco titanio. Per maggiori informazioni sui prodotti Schmincke visitate il sito internet. Troverete numerose e approfondite informazioni dalle schede tecniche di sicurezza alle linee guida su come utilizzare tutti i prodotti Schmincke.